Ho lavorato per 10 anni in negozio e quando vendevo certi smartphone ero già preoccupato e prima di consigliarli mettevo bene le mani avanti e chiarivo una cosa è un Samsung base quindi cara signora, signore, non si aspetti di acquistare lo smartphone Samsung di cui tutti parlano bene in internet inevitabilmente quel cliente dopo qualche mese queste parole le dimenticava completamente e tornava in negozio con lo smartphone lamentandosi che non aveva più memoria che lo smartphone si inchiodava e che ha buttato i propri soldi ma io cosa cavolo gli avevo detto? partendo da questa permessa ho voluto fare un esperimento ma di smartphone che fino a qualche anno fa erano quasi improponibili oggi lo sono con il video di oggi quindi cercherò di rispondere a tutti voi genitori che davanti ad una vetrina dovete acquistare un nuovo smartphone a vostro figlio e vi fate convincere magari dal prezzo o magari a voi figli che dovete acquistare uno smartphone per vostra mamma o vostro papà e non volete spendere una follia direi di partire quindi dalla confezione di vendita se comprate un Samsung tipo questo A14 al suo interno non c'è nulla a parte il cavo quindi dai 160 euro circa che andrete a spendere sicuramente dovete spendere almeno altri 10 o 20 euro per il caricatore anche una bella pellicola visto che non c'è e soprattutto una cover perché ragazzi che sia vostro figlio piccolo o piuttosto vostra madre o vostro padre questo smartphone visto che è anche abbastanza scivoloso prima o dopo cadrà quindi una trentina di euro in più bisogna per forza spenderli ma cari ragazzi c'è un modo completamente gratuito che vi permette di risparmiare sull'acquisto di un Samsung come questo tantissimi alti smartphone e anche negli accessori da acquistare ed è passando proprio da Letyshops che è partner del canale da diversi anni e che vi permette con un semplice click davvero facilissimo di fare acquisti su oltre 2700 negozi online pensate alla figata andate nel sito di Samsung, di MediaWorld o di Unieuro guardate chi vi dà e chi vi offre il miglior cashback in quel momento acquistate il prodotto passando da Letyshops a voi non cambia assolutissimamente nulla ma a fronte di tale acquisto avrete un cashback sul vostro conto corrente o Paypal in base a quello che avete scelto c'è sia un'applicazione da smartphone che è un'estensione da PC che vi ricordi in automatico di effettuare il vostro acquisto passando direttamente da Letyshops così da non dimenticarvele e non buttare nemmeno un centesimo che tornerebbe nelle nostre tasche grazie proprio al cashback offerto da Letyshops e vi ricordo che per voi questo servizio è completamente gratis spero l'abbiate capito risparmiate senza spendere un centesimo in più quindi è davvero un servizio fantastico vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione dategli un'occhiata mi raccomando tornando alla confezione di vendita come detto è completamente vuota quindi un mio consiglio è quello magari di verificare altri brand penso a Motorola, Xiaomi, Oppo che notoriamente su smartphone anche basici come questi vi offrono una confezione completa di cover, pellicola magari già preapplicata e il caricatore capisco bene che se dovete fare un regalo magari regalare un Samsung si ha la percezione di fare un regalo migliore comunque Samsung è più riconosciuta anche dai ragazzini però ricordate che state regalando uno smartphone completamente nudo quindi dall'altra parte chi riceverà questo A14 magari un altro genitore sarà poi costretto a comprargli un caricatore la cover insomma in base a chi regalate lo smartphone ricordate questo aspetto al netto di ciò esteticamente sembra di acquistare un Galaxy S23 da dietro le linee sono molto simili e anche la disposizione delle fotocamere ricorda quelle di un S23 quindi diciamo che al netto del prezzo pagato sembra di essersi portati a casa uno smartphone più costoso passando invece nella parte frontale diciamo che ok non c'è nessun tipo di ottimizzazione le cornici sono enormi e anche la goccia che posta nella parte superiore sa di smartphone del 2020 ma tutto sommato per 160 euro cosa andiamo cercando? certo ragazzi ci sono diversi Motorola, Xiaomi che hanno il foro e non la goccia e che hanno anche un hardware migliore magari vi lascio qualche link in descrizione per darvi un'alternativa a questo Samsung ma ripeto capisco questo è un Samsung e vi dico anche di stare tranquilli soprattutto a livello estetico e post vendita e aggiornamenti farete un'ottima figura parlando dei display cari ragazzi non è nulla di eclatante per carità è un 6,6 pollici non è ovviamente un AMOLED ed è solo a 60 Hz purtroppo ma la cosa buona è che lui ha un buon riconoscimento al tocco non mi fa diventare scemo quando lo utilizzo ma soprattutto una cosa che mi è piaciuta è che non si sporca tanto di impronte come altri pannelli il sensore per le impronte è laterale sblocca il dispositivo abbastanza regolarmente non mi ha creato problemi ma c'è da dire che effettivamente è molto a filo della cornice quindi almeno che non lo utilizzate con una cover non è sempre facile indovinare dov'è la posizione corretta per sbloccarlo però devo segnalarvi un problema ed è quello che secondo me rovina un po' tutta l'esperienza d'uso di utilizzo di questo dispositivo insieme un po' alle performance mi è capitato più volte in questi giorni che lo smartphone non riconoscesse più né la mia impronta e nemmeno il codice di sblocco cioè questa ragazzi è follia pensate di regalare uno smartphone come questo a un ragazzino alla vostra mamma a vostro padre si trova con lo smartphone che non si sblocca che non funziona più nemmeno con il codice sicuramente crederete che è colpa loro che sbagliano in realtà il dispositivo non si sblocca più cioè io per ritornare a farlo funzionare ho dovuto fare un riavvio forzato per 15 secondi con il tasto accensione e il volume basso in questa settimana che lo sto utilizzando perché circa una settimana che ce l'ho nella seconda tasca non si è mai aggiornato e il problema mi si è presentato almeno 5-6 volte in giro di 6-7 giorni quindi non poco e credetemi io mi auguro che sia solo un problema del mio ma se dovesse capitarvi o comunque dovete regalarlo a qualcuno e capita proprio questa cosa ricordate tasto accensione volume basso 15 secondi si riavvia e magicamente riconoscerà il codice che avete utilizzato di sblocco e anche la vostra impronta quindi fate molta attenzione e Samsung per piacere aggiorna questi dispositivi perché poi va a finire che facciamo una figura dimenticavo però cosa molto interessante soprattutto per i ragazzini qui abbiamo ancora l'attacco jack per le cuffie quindi se utilizzate questo smartphone con delle cuffiette perché magari lo date a vostro figlio per giocare ecco che allora non avrà bisogno di un paio di auricolari bluetooth che costano magari un pochettino di più ma può accontentarsi di un paio di cuffiette economiche a cavo io ragazzi ho scelto di acquistare su Amazon la versione da 4G ma esiste anche una versione 5G con display a 90Hz e un processore molto più potente rispetto a lui magari dateci un'occhiata spendete qui 30-40 euro in più ma avrete sicuramente una macchina più performante parlando di performance diciamo che speravo qualcosina in più lato fluidità visto che qui sotto al cofano abbiamo un Mediatek G80 purtroppo è forse proprio il suo vero limite perché gli manca quel qualcosina di potenza in più che magari potevo trovare sulla versione 5G che però avendo un processore fatto in casa da Samsung e notoriamente sono molto laggosi speravo che il Mediatek fosse migliore in realtà anche lui è uno smartphone insomma che a livello performance vabbè 160 euro costa ci siamo capiti al netto di ciò ovvero qualche lag qualche impuntamento generale tra le animazioni e una velocità abbastanza old style nell'aprire varie app non è proprio malaccio e se eliminiamo le gesture e lasciamo solo i tasti qui sotto il tutto risulta utilizzabile cioè qui accetto paradossalmente i lag che vedo perché ho speso veramente poco e considerando che questo andrà a costare sicuramente sotto le 150 euro o anche 140 euro a breve li accetto qui non posso lamentarmi di lag perché so che ho speso poco ma mi permette comunque di fare tutto sicuramente c'è una nota positiva ovvero i 64 giga di memoria interni e soprattutto i 4 giga di ram che questo permette al device di non trovarvi fra un paio di mesi con i vostri genitori i vostri figli che vi diranno che non riescono nemmeno ad aggiornare whatsapp perché non hanno più memoria una cosa che mi succedeva tantissimo con i clienti che spendevano poco con i propri device diciamo che forse questo problema oggi non c'è più parliamo invece del reparto fotografico intendiamoci con tanta luce il sensore da 50 megapixel f1.8 non fa solitissimamente schifo anzi con luce di giorno fa parecchio parecchio bene poi c'è un sensore da 5 megapixel e uno da 2 megapixel che sono aggiunti lì quasi quasi solo per prendere posto e assomigliare ad un s23 ma ragazzi il 2 megapixel ok il 0 il 5 megapixel grandangolari va bene insomma per 150 euro ci sta ma il sensore principale ragazzi pensavo davvero peggio la cam frontale è da 13 megapixel che insomma è passabile per quanto riguarda una videochiamata o le foto quindi pensando paradossalmente che stiamo spendendo poco su questo posso quasi dire che è un Samsung dove invece vinti a mani basse con tutta la concorrenza questo Samsung A14 è sul software pensate che ho passato tutto il backup backup del mio s23 al volo all'interno di questo dispositivo ma soprattutto vince perché ha Android 13 al suo interno con degli aggiornamenti e tutto sommato non male lui ha le patch di sicurezza di mese di marzo del 2023 e per un base gamma da questo prezzo non c'è concorrenza che tenga cioè su questo Samsung e a questo livello rispetto a tutti gli altri certo l'interfaccia è piuttosto pesante e questo hardware meriterebbe un qualcosa di più leggero ma c'è tutto il doppio tap la tendina che si abbassa anche dal sensore laterale insomma ripeto eliminato quello che è lo swipe e utilizzando i tasti per muoversi all'interno del software io non mi sono trovato proprio male male il mio Samsung è quello 4G e la ricezione è pazzesca non dover passare mai al 5G lo fa stare sempre a tacche piene ha il sensore di prossimità fisico e la qualità in chiamata è da smartphone più costoso si sente veramente bene l'unica nota stomata un po' di tutto quanto il dispositivo e il viva voce che è davvero molto molto basico la batteria è da 5000 mAh e forse l'unica pecca reale è la ricarica solo a 15W per il resto c'è tutto c'è la NFC che funziona perfettamente per i pagamenti il wifi il bluetooth di tipo 5.1 il GPS che funziona molto molto bene abbiamo anche la microSD separata da quella che è proprio lo slot delle due sim quindi insomma ragazzi anche sotto questo punto di vista è completo e come già detto abbiamo anche l'attacco per le cuffie detto ciò ne vale la pena per 160 euro direi di sì ma dipende a chi lo date o a chi lo regalate ma adesso vi spiego se è il primo smartphone da regalare a un bimbo è godibile ha tutto verrà poi aggiornato ed è un Samsung alla fine si fa sempre bella figura se invece è per vostro papà o vostra mamma che non ha esigenze particolari vi dico ancora di sì certo ci sta per tutti quelli che invece cercano fluidità più prestazioni spendendo 160-200 euro non vi consiglio un Samsung ci sono diversi Xiaomi Motorola Realme e dopo che girano meglio che però probabilmente non verranno poi aggiornati e seguiti come i vari Samsung io vi lascio comunque in descrizione alcuni link alternativi per capire quale dispositivo eventualmente acquistare al posto di questo Samsung rispondendo quindi alla domanda iniziale oggi con questa cifra ci si porta a casa uno smartphone decente direi proprio di sì anche completo aggiornato e che permette di fare tutto certo con i limiti dati dalle prestazioni ma almeno non vi capiterà come succedeva qualche anno fa di non avere abbastanza memoria ad esempio solo per aggiornare Whatsapp ma Samsung mi raccomando aggiorna questo device perché è inammissibile che si blocchi a tal punto da non poterlo utilizzare penso che se dovesse capitare a mia madre a un figlio o un bambino che ne ha veramente bisogno perché deve telefonare o deve rispondere a un messaggio cavolo se succede ti viene da lanciarlo contro il muro quindi mi raccomando aggiorniamo questi dispositivi anche se costano poco bene ragazzi per oggi è proprio tutto come sempre se vi va iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto mettete un bel like a questo video e prima di salutarci commentate questo video con un bel hashtag Viva A14 detto questo noi ci vediamo sempre qui molto ma molto presto e come dico sempre mi raccomando fate i bravi ciao grazie a tutti